Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Minaccia i parenti e pure il notaio per una eredità ripartita male, arrestato Sabato riapre la piscina di Nisalvalai dopo la rottura della caldaia A Palazzo Bracci una mostra fotografica sulla chiesa restaurata del gonfalone di Saltara Il Natale Fanese, un programma di eventi per grandi e bambini lungo un mese Il coro gospel fanese Slave Song compie 20 anni Era convinto di essere stato raggirato dai parenti in una eredità per un'eredità E così ha cominciato a minacciare tutti quanti, compreso il notaio Danneggia le tombe di famiglia con atti vandalici e scritte ingiuriose Non prima però di aver minacciato pesantemente mezza famiglia e pure il notaio Un 66enne di pergola non si ritiene soddisfatto di come è stata ripartita l'eredità Dopo la morte del padre, la casa dove vive è andata alla matrigna e al nipote E si sente vittima di un raggiro Le terminatorie con pesanti minacce di morte e richieste estorsive Arrivano a nipote, matrigna 99enne e sorella che non esitano a denunciarlo Ma l'ira dell'uomo non si placa e si abbatte su alcuni loculi Tutti riconducibili ai familiari, imbrattandoli con scritte Per questi atti colleziona ben 6 denunce per stalking, intentata estorsione e minacce Ed il giudice gli intima di non avvicinarsi e comunicare con nessuno dei parenti Ma l'uomo non accenna a calmarsi, anzi invia una nuova lettera ai beneficiari dell'eredità Minacciandoli di enormi disgrazie e di vendicarsi, proprio per le festività natelizie Ora dopo una nuova denuncia delle donne e le comunicazioni dei carabinieri di pergola Il tribunale di Pesero, viste anche le pesanti minacce e il dispregio della prima ordinanza Lo ha fatto arrestare e rinchiudere nel carcere di Villa Fastigi Un incidente stradale è accaduto poco dopo le 17 di oggi nella curva della Statale 16 all'altezza del Ponte dell'Arzilla, poco prima del quartiere di Gimarra a Fano Un Alfa Romeo 164 per ragioni da chiarire ha tamponato una Fiat Panda che procedeva in direzione Pesero Nell'urto l'Alfa è finita nella scarbata, come vedete, dopo aver divelto una protezione stradale è rischiato di investire anche un tunisino che stava camminando sul marciapiede mentre la Panda è finita in mezzo alla carreggiata Nessuno è rimasto ferito mentre ci sono state lunghe code che si sono formate visto anche l'orario in cui è accaduto l'incidente Potranno riprendere invece, potranno riprendere sabato mattina le attività agonistiche in vasca alla piscina Dini-Salvalai Il guasto alla caldaia è stato risolto, riparato La piscina Dini-Salvalai di Fano riprende la sua attività dopo lo stop forzoso dovuto ad una caldaia che dopo soli sei anni di vita ha deciso di fare basta e rompersi, mettendo in ginocchio la società che gestisce l'impianto dopo essersi aggiudicata alla gara ed aver speso oltre 70.000 euro in opere di ammodernamento per riprendere al meglio le attività sportive e rendere l'ambiente il più confortevole Sono stati giorni febbrili questi per la società Fano Fortune giorni di telefonate, di contatti con amministratori, tecnici e società per trovare il modo di ripartire Ora finalmente grazie a una riparazione di un tecnico specializzato la caldaia ha ripreso a funzionare e così possono ripartire le attività natatorie di atleti e di tutti gli utenti Abbiamo in qualche modo, ci siamo prodigati in questi due o tre giorni stiamo finendo oggi alcune verifiche comunque la caldaia è a posto, l'impianto è a posto in qualche maniera per il momento, non mettendo una pezza ma insomma abbiamo in qualche modo, siamo riusciti a sistemare l'impianto eventualmente abbiamo anche ripristinato la piccola caldaia che è lateralmente che però non è sufficiente per quello che riguarda tutto il complesso che in qualche maniera, come ci è stato promesso sia dall'assessore che dal sindaco che comunque sia in tempi brevi, riusciremo tramite qualche preventivo a trovare una soluzione per una caldaia nuova Domani mattina alle 10, ripartono tutte le attività penso i corsi li faranno partire lunedì mattina perché ormai sono stati avvisati tutti i ragazzi però da domani il pubblico o quant'altro possono entrare dalle 10 in poi e ha aperto l'impianto La riparazione però non è la soluzione al problema una caldaia nuova ed efficiente che non rappresenti una spada di damocle per gli atleti e società è una necessità impellente Sì, ci stiamo adoperando anche grazie alla società sportiva per immaginare l'acquisto di una caldaia nuova che sono comunque apparecchiature non presenti anche in zona sono apparecchi specifici, anche molto costosi però quello che interessa anche a noi come amministrazione e soprattutto alla società sportiva che gestisce è quello di riaprire la piscina perché immagino anche a Fano TV sono arrivate molte segnalazioni perché chiudere la piscina anche un giorno o due è un grande disagio per tutta l'utenza voglio ricordare che qui la mattina ospitiamo in una settimana 66 turni di ragazzi disabili quindi immaginate anche gli spostamenti, le famiglie sono disagi che non vorremmo che accadessero mai più E al porto di Pesaro è attraccata l'imbarcazione da crociera Aretusa, 60 metri di lunghezza battente bandiera maltese può ospitare a bordo 50 passeggeri la nave proveniente da Ortona è poi ripartita per il porto di Ravenna e sta facendo una serie di scali tecnici allo scopo di creare una rotta lungo la costa adriatica che dovrebbe iniziare il prossimo anno in primavera e una delle tappe potrebbe essere proprio il porto di Pesaro Da lunedì nella sala ipogea di Palazzo Bracci Pagani la fondazione Cassa di Risparmio di Fano aprirà una mostra fotografica sulla restaurata chiesa del Gonfalone di Saltara Presidente, la fondazione è ancora protagonista di un evento culturale di grande spessore e di grande importanza Ora noi abbiamo inaugurato questa chiesa e questo restauro nella primavera del 2014 però questa chiesa si trova a Saltara è abitualmente chiusa e quindi non è diciamo molto frequentata allora abbiamo ritenuto opportuno dattale una grande importanza storica e artistica di questo fresco di farne una mostra fotografica che inaugureremo lunedì 5 alle ore 17 quest'opera merita di essere vista e studiata attentamente quindi è l'occasione per rivedere quest'opera perché questa chiesa è abitualmente chiusa per visitarla bisogna telefonare al comune di Saltara che poi la fa aprire dalla Proloquo sono sempre molto disponibili quindi noi è riportare l'attenzione su quest'opera tanto importante che rimarrebbe chiusa e poco visitata e poco studiata quindi io invito davvero a intervenire l'evento avrà luogo in questo modo alle ore 17 nella sala di rappresentanza ci sarà una conferenza del dottor Peter Aufreiter che è il direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino insieme con la dottoressa Valazzi poi alle 18 ci trasferiremo per l'inaugurazione la mostra resterà aperta tutti i giorni dal 5 di dicembre al 22 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 ingresso come sempre è gratuito palazzo Bracci Pagani sala Pagani al piano interrato Allora i Carnevali i Carnevali d'Italia si uniscono si uniscono per dare vita a Carnevalia e tra i nomi tra i nomi di quelli più illustri c'è anche il Carnevale di Fano che è tra i soci fondatori lo scopo è quello di promuovere l'Italia dei Carnevali nel mondo e di favorire la tutela e lo sviluppo della cultura del Carnevale venerdì 9 dicembre a Roma alle 11.30 nel Salone Spadolini del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo tutti i rappresentanti dei Carnevali terranno una conferenza stampa di presentazione di questa nuova associazione e adesso parliamo di Natale perché sta per partire Natale più un mese ricco di eventi per grandi e piccini il Natale più di Fano non è solo uno sfavillio di luci e colori di calde atmosfere natalizie in attesa della notte magica del 25 dicembre il Natale più di quest'anno veste la tunica della solidarietà e mette il vestito buono della cultura e dell'arte coinvolgendo non solo i commercianti ma tutto il tessuto sociale del volontariato della città abbiamo scoperto quelle che sono le strutture nella città ma la marcia in più questo Natale ce l'ha anche dal punto di vista dei contenuti infatti di questo sono molto contento è due anni che ci lavoriamo e abbiamo realizzato un programma veramente vasto che sa esprimere quelle che sono veramente le caratteristiche della città da domenica prossima fino a Natale ogni fine settimana e giorno di festa avranno uno o più eventi che lo caratterizzeranno cominciando da una delle novità di quest'anno i cortili in gioco abbiamo trovato quattro cortili all'interno della città tra l'altro tre privati ed uno pubblico e in ogni cortile organizziamo un'attività diversa al Chiostro delle Benedettine arriva il Ludobus quindi giochi per bambini di tutte le età dai 3 ai 10 anni e al Chiostro Sant'Arcangelo visto che lì c'è il laboratorio della musica abbiamo creato un laboratorio musicale per far suonare i bambini e al Palazzo Nolfi Corso Matteotti proprio di fronte ai Gabuccini c'è un laboratorio di creatura di lettura con i lettori volontari e poi l'ultimo è il Palazzo Saladini Ferri che è in Piazza Costanzi e ci sarà un laboratorio di creativo dove i bambini possono creare una lanterna per il periodo natalista protagonisti assoluti quindi i bambini veri protagonisti sia l'8 dicembre che domenica 11 a partire dal giorno 11 ci sarà un coro di bambini principianti e canteremo sia sotto l'albero alle 16.30 poi il programma lo vedrete e poi saremo anche itineranti per la città per fare un po' di atmosfera il 18 invece saremo stanziali sotto l'albero faremo un repertorio chiaramente diverso e saremo accompagnati da un trio da un trio jazz in questo Natale ci sono anche delle new entry nello scenario delle attività persone o organizzazioni che mai avresti pensato potessero centrare qualcosa come i bagnini ma Fano si sa è una città balneare e quindi è giusto che anche loro facciano la loro parte cercheremo ecco di creare questo momento felice e diciamo simpatico anche per i bambini perché poi regaleremo caramelle insomma cercheremo di portare un po' di gioia sindaco allora tra tutti i più ci possiamo mettere anche il Natale più invidiato? direi proprio di sì perché è un Natale più anche più rispetto allo scorso anno un programma ricchissimo che è iniziato alla grande con l'accensione dell'albero tantissima gente molti apprezzamenti ma in questo programma c'è di tutto per tutte le fasce d'età e questo grazie ad una collaborazione straordinaria che c'è con tante associazioni con le scuole con le scuole di danza con tutti coloro che operano nelle varie forme quindi veramente non c'è giorno che non c'è qualcosa organizzato nel nostro centro storico nella nostra città apprezzatissimo da tutti il coro gospel fanese Slave Song compie 20 anni Amen 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 Hallelujah Sing Amen Walk it in a kingdom Amen 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 Atmosfere magiche ovattate di grande atmosfera che suscitano una grande emozione che solo un coro gospel può regalare un coro gospel che vanta una lunga carriera siete arrivati a 20 anni 20 anni esattamente 20 anni fa nel dicembre del 96 è iniziata questa idea pazza di creare un coro gospel visto che nella provincia nella città e anche nella regione non esisteva un coro del genere e quindi ci siamo buttati a capofitto con questa idea e siamo partiti Sì noi ci esibiamo in concerti in matrimoni in rassegne nelle marche ma anche siamo stati a Rastat una trasferta e abbiamo cantato davanti a Papa Giovanni Paolo II quindi qualsiasi occasione è buona per esprimere per lodare Dio con la musica Con la musica e per fare insomma questo compleanno come si deve avete pensato a un evento speciale naturalmente che esiterà fra pochissimi Ebbene sì martedì 6 dicembre alle ore 21 al Politeama a Fano e con l'occasione proprio per festeggiare ancora più in grande abbiamo invitato un grandissimo ospite Alessandro Pozzetto che è il direttore della nazionale Italian Gospel Choir Quando si possono acquistare i biglietti? Dove? E quando verrà? Allora i biglietti si possono acquistare sabato mattina dalle 10 alle 12 al Politeama e domenica pomeriggio dalle 16 alle 19 sempre al Politeama e poi il giorno dello spettacolo dalle 18 fino all'inizio spettacolo siamo sempre lì disponibili Allora per insomma darci qualche piccola insomma pillola di quello che avverrà martedì ci lasciamo con giustamente le loro voci grazie a tutti Bene, bravi davvero, allora è tutto per il telegiornale di oggi, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci. Grazie per la visione!